L'anno passato, l'intervento dell'OEA si è focalizzato soprattutto su alcuni temi immediati rilassi, con l'adunzione di disturbi che pur dovendo necessariamente dare il conto dell'incomo imposte dalla costituzione economica, potessero incidere significativamente, già ritenere per ieri un serenito, sicuramente, una prospettiva di più ampia gasolina. I puntamenti che hanno investito nei nostri paesi richiedono attenzione.